Residence Riva degli Etruschi, 50 anni di natura incontaminata, presenta Team Lampre ISD, le voci dal ritiro di San Vincenzo. Con 7 atleti impegnati al caldo del Sud Australia dove è in corso il Tour Down Under, il Team Lampre ISD sta finendo la preparazione sul litorale toscano. Nel tradizionale e consueto ritiro di Riva degli Etruschi, lo splendido centro turistico immerso nel verde, adiacente alla spiaggia di San Vincenzo. Dopo l'intenso allenamento di venerdì nel quale i corridori accompagnati dai direttori sportivi Maurizio Piovani e Orlando Maini si sono addentrati nel lento terra andando a toccare le località di Monte Rotondo e Larderello, è stato deciso di optare per una giornata di scarico. Da Riva degli Etruschi i ragazzi del Team Lampre ISD si sono diretti attraverso la strada litoranea della Principessa, che costeggia la pineta di Rimigliano, alla volta del promontorio di Piombino. Raggiunto però il punto dal quale si accede alle spiagge della Sterpaia, si è tornati indietro verso il Residence. Da qui, con i meccanici che avevano già predisposto per ognuno degli atleti le rispettive bici da crono, munite di ruote semplici e non lenticolari, si è tornati a ripercorrere il medesimo itinerario. Come si è già detto, niente ruote lenticolari ma soltanto protesi al manubrio, le stesse applicate nelle prove contro il tempo. Tutto questo per provare l'assetto ergonomico e la posizione in bici ad ogni atleta nell'importante esercizio della cronometro. Ambiente sereno e considerata la giornata non particolarmente impegnativa, regnava un clima goliardico quantomeno abbastanza rilassato. Questo senza tuttavia togliere a tutti i componenti del team Lampre ISD, corridori e personale tecnico, la giusta concentrazione per una stagione che si annuncia ormai alle porte. Diego, ormai siamo qui con la stagione, l'apertura della stagione è ormai imminente e fra l'altro siamo a due passi da casa. Non sarà certo la nostalgia di casa che ti manca in questo ritiro a Riva degli Etruschi e nello splendido palco dell'hotel qui a San Vincenzo? No, sicuramente quello no, siamo qua nelle mie zone, ci alleniamo sui miei percorsi di allenamento, quindi nel senso per me è una cosa abituale. Insomma ritrovarsi comunque tutti insieme, lavorare tutti insieme ti permette comunque di lavorare sicuramente in un altro modo e di migliorarci in vista comunque delle prime gare. Il debutto fra due settimane esatte nel Gran Premio Costa degli Etruschi, ma si parla, c'è voce che anche la Tireno Adriatico sarà molto vicina a queste zone. Sì, adesso partiamo con la prima corsa, abituale come tutti gli anni, con il Gran Premio Costa degli Etruschi. Se ho sentito voci che anche la Tireno Adriatico sarà qui vicino, molto probabilmente io ho peccato, ma non ci sarò perché sono destinato verso la parigianizia. Però sicuramente gli organizzatori della zona fanno sempre le cose in grande e anche le stanno non ci deluderanno. Damiano Cunego, una lunga militanza nella Lampia ISD, quindi un abitué di Riva degli Etruschi, della Costa Etrusca, San Vincenzo e Donoratico. Sicuramente un palcoscenico e una location ideale per rifinire la preparazione. Sì, per noi ormai è un abitué perché è già diversi anni che veniamo qui, quindi conosciamo benissimo le zone per allenarsi, il clima comunque è abbastanza buono, quindi sì, come squadra è già diverso tempo che siamo qui. Penso che a questo punto avremo ancora per molto altro tempo. Ieri una giornata impegnativa da un punto di vista di allenamento, oggi una giornata di scarico, si è provata la posizione sulla bici da crono. Sensazioni? È vero, abbiamo fatto diversi giorni di lavoro dove comunque abbiamo fatto i nostri lavori, distanze, chilometri per tirare sulla nostra condizione fisica. Il giorno di riposo l'abbiamo dedicato la prova, le bici da cronometro e purtroppo la cronometro già si tende a provarla molto poco, quindi abbiamo cercato di dedicare il giorno del riposo per provare questo mezzo che è solitamente difficile che si usi più volte negli allenamenti. Quindi anche per capire un po' la posizione, la meccanica, i rapporti, ecco queste cose qui. Com'è la gamba e poi se dobbiamo attendersi un cuneco esplosivo già subito all'inizio stagione? Beh no, quest'anno rispetto all'anno scorso parto leggermente più tranquillo perché intanto ho iniziato la preparazione un po' dopo anche perché comunque sarà una stagione ricca di impegni e quindi cercherò di essere competitivo verso il mese di marzo. Quindi c'è ancora margine e cerco di crescere piano piano. Il debutto? Il debutto sarà Reggio Calabria quest'anno, un po' come l'anno scorso, e le gare successive Parigi-Nizza, Catalunia, Paesi Baschi. Ecco questa è un po' una panoramica generale delle corse che andrò a fare. Maurizio Piovani dà tanto tempo al team Lampre ISD. A San Vincenzo non si scopre nulla, un posto ideale per rifinire la preparazione. Oggi giornata di scarico? Sì, oggi dopo aver fatto due giorni intensi nell'entroterra, tra Volterra, Miciano e altri percorsi abbastanza impegnativi abbiamo deciso di fare come data bella un giorno di scarico provando in un primo momento la prima ora di bici le nuove biciclette che useranno poi in gara e per rifinire un attimino la posizione sulle bici da cronometro. Ecco oggi abbiamo optato per questa cosa, visto che poi una giornata è bellissima e quindi un giorno di scarico fa bene anche un po' per tutti. Non ci sono segreti? Siamo ancora in un ambiente ancora evolutivo a livello di preparazione. Sono arrivate qualche segnalazione? Qualcuno che non è troppo contento della posizione? No, 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 con i meccanici hanno già trovato la posizione ideale, ci sarà da fare qualche rifinizione ma sono delle piccolesse, delle cose che proprio, diciamo, delle stupidate. Il tormentone dell'inverno è stato riguardo a Michele Scarponi, giro o tour, ma ancora sembra che regni l'assoluta incertezza o riservo? Cos'è? Ma no, diciamole tutte e due, senza certezza che riservo. Questo qua è un discorso che stiamo portando avanti noi della lampra ISD e poi dopo con Saroni e con gli altri tenici, bene o male, vedremo un attimino un po' l'evolversi della situazione. Ecco, bisogna poi sentire anche un attimo Scarponi, come si troverà la prima parte di stagione, dopo la tirreno insomma o anche un po' più avanti, però diciamo che è ancora tutto in evoluzione. Ci spostiamo verso Orlando Maini, l'altro tecnico del team lampra ISD, ricordiamo che Damiani è vicino, sono in Australia al tour Down Under e ad Orlando vogliamo chiedere un pochino quello che abbiamo già chiesto a Damiano. Per lo meno sulla carta il team lampra ISD sembra molto rinforzato rispetto alla forte, alla pur forte compagine schierata nella stagione 2011. Sì, i dati dicono che siamo la squadra più vecchia del pro tour, però per mentalità e per continuità io credo che quelli che sono i ragazzi più vecchi di questa squadra rappresentano un'ossatura importante e soprattutto una garanzia. Credo che alla fine si possono inserire e far lavorare bene certi giovani, perché? Perché ci sono ancora dei vecchi che possono garantire dei buoni risultati e per questo che poi i giovani possono crescere tranquillamente. Allora, un pochino le punte andando ad analizzare, Alessandro Petacchi che è sempre competitivo, l'abbiamo visto al tour Down Under, perdere e sfiorare la vittoria al photo finish, quindi per gli arrivi in volata. Michele Scarponi per le grandi gare a tappe, Damiano Cunego, la classe non si discute, quindi un jolly assoluto, ricordiamo e abbiamo ricordato lo stesso con Damiano che è l'ultimo corridore italiano a riportare un successo in una grande classica. Ma tanti, tanti giovani. Ecco, il ruolo di Diego Ulissi, di Malori e anche altri. Ancora ci soffermiamo con Orlando Maini. Sì, io sono al mio primo anno in Lampri SD, però credo che abbiano fatto un ottimo lavoro sia con Adriano che con Diego Piovani e Bontempi, perché? Perché hanno dato la possibilità comunque di crescere a questi ragazzi senza avere troppa pressione sulle spalle. Quest'anno entrambi faranno un ulteriore passo verso quello che speriamo sia la sua buonissima carriera, caricandoli leggermente di alcune responsabilità che fino adesso non hanno avuto, ma tutto questo si prepara già dall'inverno, con Maurizio ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, per cercare di mentalizzarli e cercare di far sì che poi alla fine non deva essere un trauma, ma deve essere un percorso normale come sempre succede quando hai la fortuna di avere due ragazzi che hanno, secondo me, un futuro scritto. Allora, siamo in compagnia di Michele Scarponi. Il tormentone di questo inverno. Giro d'Italia, tour. Giro d'Italia, tour. Oppure? Ma oppure per il momento ci troviamo qua a San Vincenzo con tutta la squadra per lavorare e preparare al meglio quella che sarà una stagione importante, quella che è, perché comunque è già partita e in Australia abbiamo fatto il secondo colloid del campionato nazionale e con Petacchi alla prima tappa. Io sto qua lavorando con la squadra serenamente, il mio avvio di stagione prevederà il Sardegna e l'Atlino Adriatico e chiaramente tu mi hai posto una bella domanda. Giro tour. A dire la verità, penso che a breve approfondirò ancora di più un po' questo discorso, perché francamente il giro per me resta sempre il giro d'Italia, ma la voglia di fare il tour è tanta, quindi farli entrambi mi sembra un po' difficile. I direttori stanno pensando, sia con la squadra che con Saloni, stanno un po' valutando la cosa. È chiaro che decideremo insieme e lasceranno a fine decidere a me, però per il momento ci sto ancora valutando. Senti, una domanda che affiora anche dal mondo di internet. Michele Scarponi è un campione in grado di essere competitivo da inizio fino a fine stagione, un po' come il ciclismo di una volta, però molti sostengono che vada più d'accordo con qualche grado in meno di temperatura che con il caldo a fosso, per cui anche questo può condizionarti in quella che sarà poi la scelta giro tour. Sì, sinceramente col caldo ho sempre fatto molta fatica. È anche vero che quando ho affrontato corse molto calde, avevo già ottenuto molto prima, quindi magari è stato sempre un po' una sorta di coincidenza, insomma, perché comunque quando ottieni tanto, sono un corridore che a marzo-aprile pedala facilmente, anche con poco allenamento, con pochi obiettivi magari in tempi passati, ora ne ho dei obiettivi. Mi è sempre venuto facile pedala all'inizio stagione. Con il caldo ho sempre fatto fatica, ma forse anche figlio, questo è un po' il mio punto debole, di aver ottenuto parecchio prima. Comunque sì, il mare mi sta dicendo di più in quel periodo. Allora, aspettative, valutazioni di un corridore bravo ed esperto, qual è Leonardo Bertagnoli? Noi abbiamo fatto un'ottima stagione l'anno scorso con la Lampre. Purtroppo io invece non ho mai trovato una buona condizione, quindi per me l'anno scorso è stata una stagione veramente negativa, posso dire, quest'anno insomma ho iniziato a lavorare bene, pensando esclusivamente di riuscire a tornare su un buon livello, come ho fatto fino a due anni fa, insomma. E per me questa è la cosa principale, dopo qua sono in squadra con Damiano, Cunego, Michele Scarponi, sicuramente dovrò dare una mano a loro, però insomma sono sempre riuscito tutti gli anni a fare dei buoni risultati, quindi penso che anche quest'anno arrivino. Negli anni, diciamo, nella tua militanza in una squadra francese, la Cofidis, sei stato brillantissimo soprattutto nella primavera, nelle prime gare di stagione. Puoi ricalcare un pochino, perlomeno quello che sono i tuoi programmi, questo periodo, oppure pensi di mediare un po' più nel tempo quello che sarà il tuo momento clou? No, no, sto sicuramente cercando di riuscire a partire forte, inizierò a correre in Calabria, per poi fare un paio di gare in Italia, l'Egueglia. No, poi Lugano e poi la Pariginizza, insomma io vorrei essere già competitivo in questo periodo, il tempo adesso è ancora buono, riusciamo ad allenarci bene, quindi insomma spero proprio di riuscire a trovare presto una buona condizione. Poi farò un periodo abbastanza tranquillo nella tarda primavera, dopo le classiche, per poi riprendere, se sono in condizione, per fare il tour, sperando insomma che vada meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso è andato male, e niente, per me quest'anno deve essere sicuramente un anno di riscatto, ho 34 anni però ho ancora tanta grinta e mi sento ancora che posso dire ancora qualcosa. Allora, tanti in bocca al lupo. Grazie, Greppi. Ciao. Niemec, il secondo anno nel team Lampre ISD, uno scalatore che non ha bisogno di presentazioni, molto importante già lo scorso anno per il capitano Michele Scarponi. Allora, mentre siamo in attesa ormai di qualche settimana ancora, prima di sciogliere le riserve su quelle che saranno le scelte del capitano Scarponi, chiediamo a Niemec se pensa che la sua stagione sarà parallela a quella del capitano, oppure se potrà coltivare delle velleità di carattere personale, nel caso che so, Scarponi non faccia il Giro d'Italia, se potrà essere lui la punta della Lampre ISD nelle tappe di montagna. Sì, comunque l'anno scorso la stagione che ho fatta era molto buona, secondo me, la prima volta ho fatto il Giro, ho fatto Vuelta, quello che volevo fare. Speriamo di continuare anche quest'anno il lavoro che si è fatto l'anno scorso, speriamo di fare il Giro d'Italia a fianco di Michele, per portarlo a vincerlo, questo Giro. Vediamo più avanti, comunque siamo tutti molto motivati di fare un buon lavoro e vediamo in futuro. In questi ritiri, come quello che sta svolgendo attualmente la Lampre ISD a San Vincenzo, si pianifica un pochino anche quella che è la stagione. Per quanto concerne Niemets, si guarda dal Giro di Sardegna in poi oppure sarà anticipato il debutto? No, il mio debutto è previsto a Lugano, fine febbraio, poi farò i Friuli, le Strade Bianche di Siena, che è la gara che mi piace molto, e poi comincio a correre con Michele, faccio Tireno Adriatico, Paesi Baschi, Giro del Trentino, Appennino e Giro. Perfetto, e allora Giro forse hai lanciato un pochino quelle che possono essere le aspettative di tutte, mentre questo grande punto interrogativo c'è ancora, ma sicuramente una squadra ancora più competitiva, come la vedi la Lampre 2012? Ma vedo più o meno come l'anno scorso la squadra compatta, con tanti corridori in buon livello, si è visto anche l'anno scorso con tante vittorie, con gli impiazzamenti, speriamo che anche quest'anno andrà così, anzi si migliora con le vittorie. Vedo la squadra tutta compatta, ci siamo trovati qua a San Vincenzo, nel ritiro, nell'altro ritiro vengono anche gli altri corridori che attualmente sono in Australia, però vedo una bella squadra compatitiva per vincere tante gare. Allora non resta che a tutto il mondo professionistico italiano dare l'appuntamento fra 14 giorni su queste strade, qui arriva degli Etruschi, ci sarà la partenza del Gran Premio Costa degli Etruschi, forse Niemice non parteciperà? No, non parteciperò ma vengo a Della che sono qua. Quindi sarà un modo per raccogliere le tue impressioni durante la corsa a bordo strada, grazie e buon lavoro ancora. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.